C'è scritto queste scale vi condurranno al centro della terra e arrivati in fondo vedrete i dinosauri Cosa? Parla davvero di dinosauri? No, quello l'ho aggiunto io, ma i dinosauri ci saranno, ne sono sicura Nonno, siamo quasi arrivati No, lì dobbiamo superare le radici delle piante, i tubi di scarico, le caverne dei ragni giganti Sì, è un lungo viaggio fino al centro della terra Quindi all'incirca quanti gradini mancano? 48 milioni di trilioni di migliaia Oh no, i piedi cominciano già a farmi male Ecco perché ho fatto installare questo ascensore Apertura porte Tenetevi forte, mi raccomando, l'ascensore scende piuttosto velocemente Chiusura porte Distesa Oh, il mio stomaco! È divertente! E come? Centro della terra Apertura porte Eccoci qua, al centro della terra È enorme questa caverna! Piena di alberi e funghi giganteschi! Già, è proprio come in tv Beh, forse manca qualcosa I dinosauri! Eccone uno! Oh! Vedete? La televisione non sbaglia mai Ma adesso che siamo qui, come troviamo la signora Foderingil? Gastone può annusare le sue scarpe In questo modo riuscirà a trovarla Geniale, Ben! Trova la signora Foderingil! Bravissimo, Gastone! Chissà quando incontreremo la tribù perduta Tribù perduta? Oh, che sciocchezza! Wow! Guardate là! La tribù perduta! Ve l'avevo detto! Riesco a sentire da qui l'odore della colazione! Pronto? Presto, maestà! Dite al vostro gnomo che c'è un albero della colazione sulla grande collina Ho sempre sentito dire che la colazione non cresce sugli alberi Invece ci cresce! E come? Un albero stracolmo di uova, pancetta, salsicce e pane tostato È davvero la cosa più bella che abbia mai visto in tutta la mia vita Guardate, stanno per incontrarsi E per fuggire a cento chilometri l'uno dall'altro Ah, un agnomo! E tu cosa ci fai qui? Potrei farti la stessa identica domanda E allora fallo! E tu che cosa ci fai qui? Mi piace fare colazione! Vuoi sapere per quale motivo? No! Bene, lo prenderò come un sì! È perché mi piacciono le uova fritte, la salsiccia, la pancetta, le frittelle e anche... Ti sei mangiato tutto! Se non avessi parlato così tanto, anche tu avresti potuto mangiare Bene! Ora me ne andrò cento chilometri lontano da te, almeno! E io me ne andrò mille chilometri lontano da te, almeno! Ha funzionato! Entrambi stanno lasciando il piccolo regno! Davvero un piano brillante e ben fatto, tata Susina! Vi ringrazio, Riccardo! In realtà è stata una mia idea, vostra maestà! No, non è vero! Io ho pensato di farli incontrare! E io ho creato l'albero della colazione! Diciamo allora che l'ingegno degli elfi e la magia delle fate oggi ci hanno salvati! Urrà! Lei mi ama oppure forse no? Lei mi ama oppure forse no? Lei mi ama? Guardate, l'ognome è ancora qui! Credevamo che fosse andato via... Devo avvertire la signora elfo! E poi il padrone di casa mi disse, questo è il segreto che non posso rivelare a nessuno! L'unica persona che io amo veramente è... Pronto! Sarà meglio che sia molto importante! Sì, non ti allarmare, ma c'è qualcosa che ti sta venendo incontro! Ah sì? E che cosa sarebbe questo qualcosa? Ecco, è una piovra gigante molto aggressiva con otto tentacoli! Eccola qui, la vedo! Che cosa faccio ora? Dilla di non mangiare la mia barca, per favore! Ascoltami, signora piovra gigante, questa barca non è commestibile! Che cosa succede? Sembra proprio che la piovra stia mangiando la sua barca! Sventi, torniamo in superficie! Piovra gigante cattiva, smettila di mangiare! Smettila immediatamente, ho detto! Oh, la mia barca divorata! Io non ve l'avevo forse detto? No, ci aveva detto che se la sarebbe mangiata il grande Barry! E invece è stata una piovra gigante! È un vero disastro! Avevo promesso che me ne sarei preso la responsabilità ed è quello che farò! Quindi? Tutto qui, me ne prendo la responsabilità! Bene! Dunque, detesto chiederglielo, ma tata Susina può fare apparire una barca e riportarci tutti a casa? No! Perché no? Perché lei ha detto bla bla bla, niente magia! E poi gli ha tolto la bacchetta magica, ricorda? Oh, è vero, purtroppo! Quindi ora siamo bloccati qua? No, perché mi è appena venuta una delle più brillanti idee del signor Elfo! Costruirò una zattera grazie a questi relitti! E noi le saremo d'aiuto? Sicuro, papà! Uniamo insieme i pezzi di legno con una corda! Fatto! È finita! Ho l'onore di presentarvi Banti 3! Cosa sarebbe Banti 3? Questa barca! Banti 2 era più bella! Ascoltate, sento dei passi! Sta arrivando qualcuno! Urra! 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 Sta arrivando! Cominciate a suonare subito, bambini! Buongiorno a tutti! Luglielmo! È un piacere vedervi! Deve andarsene subito! Stiamo aspettando una persona molto importante, un VIP! Oh, davvero? E chi è questa persona? È il re Leopoldo! Ma sono io! Lei? Come? Lei è il re Leopoldo? Non posso crederci, è un vero re! Oh, certo! E dov'è la sua corona? La tengo nascosta sotto il mio cappello! Perché non ce l'ha mai detto prima d'ora? Oh, a me non piace affatto vantarmi per queste cose! Non le piace vantarsi per queste cose! Ha spedito a tutti delle lettere pompose per annunciare la sua presenza! Sì! Perché quando arrivo in un posto all'improvviso, di solito le persone si arrabbiano e poi mi mandano via! Invece, se spedisco una lettera e mi annuncio come il re Leopoldo, sono il benvenuto e ottengo un invito a cena! Beh, la prima volta di solito funziona! Posso mangiare questa torta? Io immagino di sì! È davvero ottima! Ho una storia interessante da raccontarvi! Vi va di ascoltarla? No! Allora lo prenderò come un sì! Le torte non si trovano semplicemente in natura! Devono essere sempre preparate da qualcuno! Ci siamo dati tanto da fare per scoprire che il re Leopoldo in realtà è l'ognomo! Già! Questo è un vero oltraggio! Oh oh! È comunque un re e voi vi siete dati tanto da fare perché stava per arrivare una persona molto importante! Un VIP! Paparino ha ragione! Sì! Dovremmo dare il benvenuto al re Leopoldo! La stanza le annoia e così loro si muovono! Il batter è finito sul tetto una volta! Sì! È stato buffo! Ma ora come faccio a scendere in cucina? Devi dire alle scale che vuoi andare giù! Scale! Voglio andare giù! Deve anche pronunciare le parole magiche! Quali parole magiche? Abracadabra? No! Per favore! Oh! Per favore! Voglio andare giù! Grazie molte! Perfetto! Adesso mettiamo questi calzini sporchi dentro la lavatrice! Come faccio ad accenderla ora? Questa è una lavatrice magica! Devi soltanto parlarle! Ok! Ascolta, lavatrice magica! Lava i calzini subito! Pronuncia la parola magica! Per favore! No! Abracadabra! Oh! Abracadabra! Caspiterina, è più complicato di quanto pensassi! Allora, Ben, cosa farebbe il vecchio saggio adesso? Il suo prossimo lavoro è alla scuola degli elfi! Buongiorno, bambini! Ma dov'è il vecchio saggio? Per quest'oggi sarò io il vecchio saggio elfo! La magia crea sempre tanti problemi! Dunque, qual è la lezione in programma? Noi dovevamo costruire un robot! Puoi chiedergli tutto quello che vuoi! Ok, dove mi trovo ora? Tu ti trovi sulla luna! Non è la risposta esatta! Prova ad alzare la voce! Ok! Dove mi trovo ora? Tu ti trovi sul fondo del mare! Salve, Barbarossa! Ciao, Ben! Ciao, Ollie! E buongiorno, mio bocciolo di rosa! Lui è un mio vecchio compagno di bordo, il Capitano Spigola! Al vostro servizio! Stavamo discutendo su chi di noi fosse il miglior pirata! Cos'è che rende un pirata il migliore? Il migliore è quello che si dimostra più abile a nascondere il proprio tesoro! Il mio tesoro è nascosto perfettamente! Ecco, questa è la mappa! Ma solo io sono in grado di leggerla e comprenderla! Eh, anche un bambino ci riuscirebbe! È sepolto sotto il grande albero degli elfi? Ehm, sì! La mia mappa è molto più complessa! Oh, questa sì che sembra difficile! Il tesoro è sepolto sott'acqua, lì sotto gli occhi di tanti, sorvegliato da una sirena e da un dorato mostro marino con scaglie che risplendono brillanti! Oh! Beh, io vado! Ho delle faccende da pirata da sbrigare! Ahah! È stato un piacere, Capitano Spigola! Per me lo stesso, Capitano Barbarossa! Guardate! Capitano Spigola ha scordato la mappa! Su, correte a restituirgliela! No, è troppo tardi! Se n'è andato! Forse possiamo raggiungerlo! Capitano Spigola! Aspetti! Date a me la mappa! Andrò da lui in volo! Non sia precipitosa, mia sirena! Sa una cosa? Errò io la mappa al sicuro finché lui non tornerà! Ma non vorrà mica andare a cercare il tesoro di Capitano Spigola! Oh no! Noi pirati abbiamo un codice d'onore! Cosa dice il codice d'onore? Che il tesoro di un altro pirata è sacro e che non bisogna mai andare a cercarlo! Comunque la mappa è troppo complicata per Barbarossa! Cosa? Posso seguire questa mappa anche ad occhi chiusi! E io ve lo proverò! Ma come la mette col codice d'onore? Sai, il fatto è che i pirati non hanno poi tutto questo onore! Siamo pirati, dopo tutto! Ehm... In ogni caso voglio soltanto controllare che il tesoro di Capitano Spigola sia davvero ben nascosto! Tutto questo... Riesco a sentire da qui l'odore della colazione! Pronto? Presto, maestà! Dite al vostro gnomo che c'è un albero della colazione sulla grande collina! Oh! Ho sempre sentito dire che la colazione non cresce sugli alberi, invece ci cresce! E come? Un albero stracolmo di uova, pancetta, salsicce e pane tostato! È davvero la cosa più bella che abbia mai visto in tutta la mia vita! Guardate, stanno per incontrarsi! E per fuggire a cento chilometri l'uno dall'altro! Ah, un gnomo! E tu cosa ci fai qui? Potrei farti la stessa identica domanda! E allora fallo! E tu che cosa ci fai qui? Mi piace fare colazione! Vuoi sapere per quale motivo? No! Bene, lo prenderò come un sì! È perché mi piacciono le uova fritte, la salsiccia, la pancetta, le frittelle e anche... Ti sei mangiato tutto! Se non avessi parlato così tanto, anche tu avresti potuto mangiare! Bene! Ora me ne andrò cento chilometri lontano da te, almeno! E io me ne andrò mille chilometri lontano da te, almeno! Ha funzionato! Entrambi stanno lasciando il piccolo regno! Davvero un piano brillante e ben fatto, tata Susina! Vi ringrazio, Riccardo! In realtà è stata una mia idea, vostra maestà! No, non è vero! Io ho pensato di farli incontrare! E io ho creato l'albero della colazione! Diciamo allora che l'ingegno degli elfi e la magia delle fate oggi ci hanno salvati! Urrà! Lei mi ama oppure forse no? Lei mi ama oppure forse no? Lei mi ama... Guardate, l'ognome è ancora qui! Credevamo che fosse andato via! Chi vorrebbe cavalcare un lumacone? Ascoltatemi bene, non dovete mai camminare dietro alle lumache! Perché no? Perché potrebbero darvi un bel calcio! Ecco perché! Speedy ha un bel caratterino, vero? Dovete imparare a conoscere le vostre lumache! Allungate la mano, in modo che possano annusarvi! Ciao, Bobby! Sono piuttosto diffidenti! Hanno bisogno di tempo! Dagli una piccola pacca sul gusso! Coraggio, Bobby! Non avere paura di me! Ben fatto! È diventato tuo amico! Possiamo cavalcarle adesso! Non ancora! Prima ci aspetta del lavoro! Innanzitutto rassettiamo le scuderie! Che cosa vuol dire? Pulirle dalla popò di lumaca! Popò di lumaca! Prendete tutti un secchio e una vanga e pulite la popò! La popò di lumaca puzza ed è anche molliccia! È questo lo spirito giusto! Bravissimi! Mi raccomando, dovete lavarvi bene le mani! Passiamo alla strigliatura adesso! Cos'è la strigliatura? Pulire e lucidare! Prendete tutti una spazzola e poi date una bolla sgrassata ai gosci! Noi tre striglieremo spidi! Sta calmo, piccolo, sta calmo! Vogliamo solamente lucidare il tuo guscio! Oh, fermo, piccolo! È piuttosto irrequieto, come vedete! Sta bravo! Il guscio di Bobby adesso brilla! Anche quello di Dabby! Guardate, Muffin! Il suo guscio è luccicante! Ottimo lavoro! Bravissimi! Ben fatto! Ricevuto! Forza, ragazzi! Si comincia! Diamoci da fare! Oh cielo! Che cos'è questo rumore? Pronti a sollevare! Salve, vostra maestà! Ah, sì! Continuate! Abbiamo caricato tutto, ragazzi! Potete andare! Papà, hanno portato via tutto il nostro castello! Questo è un vero disastro! Eccomi! Oh no! È la mamma! Posso guardare adesso? Puoi farlo solo se chiudi gli occhi! Oh, è divertente! È come nei programmi che guardo in televisione! Posso aprire gli occhi adesso? Non lo farei! Ditemi voi quando posso! Ehm, circa fra un mese! Oh! Oh! Dov'è finito il castello? Ehm, ecco... Cosa credi che diranno i calendula quando vedranno questo? Rideranno, rideranno, rideranno! Oh no! I calendula sono arrivati! Ciao, caro sorella! Oh! Oh mamma mia! Oh mamma anche mia! Non è proprio come ce lo aspettavamo, però... Non so davvero che cosa dire! Eh, non è ancora finito! È meraviglioso! Sì, è incredibile! Volevamo soffitti alti! Voi li avete eliminati del tutto! Già! E guarda qui l'angolo bagno! Sì! Essenziale! È completamente aperto! Lo trovo così avventuroso! Beh, devo ammettere che quella è stata una mia idea! Re, Cardo, vecchio mio, sei davvero un architetto nato! È vero! Hai mai pensato di insegnare architettura? Oh, veramente no! C'è nessuno? Sono spariti tutti quanti! Hanno lasciato le bacchette! Oh, è bello averti di nuovo con me! Ehi, tata! Adesso che hai di nuovo la tua bacchetta magica, ti dispiacerebbe! Sarà un vero onore accontentarla, grande mago! Ti do il permesso, ritorna te stessa! Allora, dove saranno finiti quei poveri bambini? Temevo che sarebbe successo! Purtroppo Daisy e Poppy devono aver trovato il passaggio segreto! Scusate, dove porta questo passaggio segreto? Porta alla stanza segreta! Non avevo idea che noi ne avessimo una! Certo, perché è un segreto! Questa stanza contiene una grande energia magica che non deve assolutamente essere liberata! Allora, dei bambini non dovrebbero essere chiusi lì dentro! Riesco a sentire le loro voci! Stanno ridendo e... Sento anche qualcos'altro! Non dobbiamo assolutamente entrare! Ma insomma, quanta esagerazione per questa energia magica dai poteri straordinari! Tranquilli, ci penso io! Buona fortuna! Mia coraggiosa e dolce Susi! Che cosa riesci a vedere? Delle cose spaventose! Arrivo Tata! Barbarossa alla riscossa! Ecco i bambini, sani e sani! Resista Tata Susina! Ce l'abbiamo fatta! E in salvo adesso mio dolcissimo pasticcino! Ho visto delle cose terribili in mare! Ma niente, niente paragonabile a quello che ho appena visto in questo posto! Ed ecco perché cerchiamo di tenere la porta chiusa! Urrà! Andiamo subito in cucina! Adesso dobbiamo mescolare tutti gli ingredienti! Una mora Dello zucchero Mezzo limone La rugiada Bava di lumaca E l'ultimo ingrediente Un rutto di rana! E adesso la formula magica! Zucchero e limone Mora fragrante Rugiada, rutto e baba Mescolatevi all'istante! Quell'intrullo avrà un gusto davvero spaventoso! No, Ben! Non ti ricordi? È una pozione che deve essere solo spalmata sui piedi E non bevuta Nessuno berrebbe questa cosa! Oh, perbacco! Ma è davvero terribile! Terribile! Ha un gusto assolutamente disgustoso! Paparino! Ma tu non avresti dovuto berla! Eh? Avrebbe dovuto spalmarla sui suoi piedi! Cosa? Mi chiedo che succederà adesso Vediamo un po' cosa dice il libro Oh, perbacco! Che significa? Mi sono sbagliata! Quello non era affatto un rimedio per il raffreddore comune Era una cura per la calvizie Però, devo dire, vostra maestà Che i capelli lunghi vi donano moltissimo Tata Susina! Credo che il raffreddore sia sparito Urrà! Il re mi ha attaccato il raffreddore Guardate, è un verme! È scappato via! Non dobbiamo darci per vinti Proviamo di nuovo! Oh! 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 Eccone un altro! Oh! Io mi arrendo E sono difficili da prendere Ma questo piccolo uccellino è molto affamato Dobbiamo assolutamente trovare la sua mamma Di solito le mamme uccello arrivano quando i piccoli le chiamano Ma non cinguetta abbastanza forte? Tata, usa la magia, fallo cinguettare più forte Sì, subito Rendilo all'istante un uccellino gigante Oh no! Hai usato la formula magica sbagliata! L'uccellino sta diventando enorme! Non ho sbagliato affatto L'ho reso più grande Così cinguetterà più forte Non preoccupatevi L'incantesimo non durerà molto E quanto durerà, tata Susina? Potrebbe svanire tra un minuto O una settimana L'incantesimo ha svanito E la mamma uccello sta arrivando Che cosa ha detto? Ha detto grazie di tutto e ciao 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 ciao! Ciao Ollie! Questa era la nostra ultima consegna Possiamo giocare! Tu avrai anche finito, Ben Ma io sto ancora lavorando qui Ollie, è il momento del tuo discorso Salve! Avete organizzato una splendida festa E spero che vi divertiate moltissimo a ballare Ottimo lavoro! Ottimo lavoro! Che succede adesso? C'è la parte più difficile Dobbiamo starcene seduti senza addormentarci In onore di Sua Maestà Riccardo Ci esibiremo in una danza Ah, che orrore! Adesso è anche peggio Urra! Bravi! Eccezionale! Davvero bravi! Avanti papà Andiamo a ballare Cosa? Ma io... Oh, d'accordo Potreste suonare qualcosa di più Moderno? Certo, Maestà Sai papà, il tuo lavoro mi piace È divertente Hai ragione, Ollie Essere re è uno spasso Per me si sta mettendo male Ollie si è nascosta troppo bene Credo che non ce la farò mai a trovarla Ti ho trovata! Oh, ma come fai a vedermi? Io sono invisibile Oh, non sono più invisibile L'incantesimo è svanito L'incantesimo? Ecco, io ho usato soltanto un pizzichino di magia Lasciamo perdere Perché non facciamo un altro gioco? Ti prometto solennemente che non userò le mie ali e la mia magia Va bene Allora adesso giochiamo a... Ben! Ollie! Bambini! Le tortine sono pronte Ma signora elfo, dobbiamo per forza entrare in casa Non possiamo giocare ancora un pochino? Questa è proprio bella Credevo che una certa principessa delle fate e un certo elfo trovassero noioso giocare Ma mamma, noi abbiamo appena cominciato a giocare insieme E tu hai detto che le tortine dovevano cuocere tanto Infatti ci hanno messo tantissimo Davvero? Vi è sembrato che il tempo volasse perché vi stavate divertendo? Succede spesso Oh! Volete assaggiare una tortina? Sì, grazie! È deliziosa! È squisita! Queste tortine sono fantastiche! E la signora elfo non ha nemmeno usato un po' di magia Ti ringrazio Ollie Ma credo che sia tutto merito di come hai miscolato l'impasto La vuoi vedere una magia? Va bene Io posso fare sparire questa tortina Ma come? Credevo che gli alfi non sapessero usare la magia Osserva attentamente La gallina è fuori controllo Si salvi chi può Prendete quella gallina Svelti! Salite sul camion! Seguiamo quella gallina! Perché ci siamo fermati? Oh no! La molla deve essere ricaricata Aspetta, Ollie! Ti do una mano io! Oh, buongiorno! Qualcuno mi può portare un uovo? Abes! Oh, mamma mia! Tata Susida! Ti avevo detto di non fare apparire una gallina Ma non l'ho fatta apparire io! Tata? Tu sai parlare la sua lingua? Certo, vostra maestà! Allora, che cosa ha detto? La signora gallina dice La signora gallina dice Guardate! Laggiù c'è la nostra gallina! Attenzione, tata Susina Quello è un animale estremamente pericoloso! Ma non dire sciocchezze È soltanto una gallina La gallina ha deposto un uovo! URRA! Daisy, Poppy, sono certa che non l'avete fatto Wow! Uccellino che vola! Uccellino che vola! Credi che sia finita? Sì, per fortuna gli uccellini non sanno usare le bacchette magiche Oh, Barnaby, Ben, avete visto le ragazze? I gattini sono Olly e Fiore E gli uccellini sono le gemelle Cosa? Eh, Daisy e Poppy hanno voluto fare un po' di pratica con la magia Oh, capisco E chi sono tutti quei conigli? Quelli sono gli elfi Perfetto Devo sistemare un po' di cose Correte via, gattini Tornate qui, fatine Saltellate via, coniglietti Tornate qui, elfi Volate via, uccellini Tornate qui, gemelli Olly, sbaglio avresti dovuto badare alle tue sorelline Ma, Tata, le gemelle sono davvero impossibili Sono proprio delle piccole pesti Beh, non è successo niente di grave Niente di grave? Ci hanno trasformate in conigli Lo so, sono molto colpita Ma, ma... Le piccole stanno diventando brave con la magia Rana Ranocchia! Date subito a me queste bacchette Per oggi ne abbiamo avuto abbastanza di magia Ma, Tata Susina Non possiamo lasciare che rimanga una rana? Non possiamo? No, immagino di no E va bene, Olly Falla tornare come prima Salta via rana, riappari, Tata